Una vera e propria bomba è stata sganciata su Temptation Island. Protagonista del fattaccio è stata stata la coppia di concorrenti composta da Anna Ciardi e Alfredo Cator. Fidanzati da un anno e nove mesi, vivono entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 27 anni, dopo aver scoperto un tradimento da parte del compagno. Ho scoperto il chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze, le parole della ragazza nel video di presentazione. Come nell'edizione precedente, anche questa autunnale vede protagoniste sei coppie che stanno mettendo alla prova le proprie relazioni, disturbati ad attentatori e tentatrici. In particolare le ragazze, con alcuni fidanzati che si sono subito avvicinati pericolosamente alle tentatrici e hanno stretto un rapporto molto intimo, proprio come Alfred. Per la coppia formata da Anna e Alfred il percorso a Temptation Island è stato ricco di colpi di scena sin dalla prima puntata e il giovane è stato fin da subito criticato dal pubblico femminile sui social e durante la puntata andata in onda martedì 1 ottobre se ne sono viste delle belle. Colpi di scena uno dietro l'altro, con la richiesta di un falò che ha fatto discutere il pubblico del programma. Dopo i pericolosi avvicinamenti delle scorse puntate, quando i due hanno commentato anche la felicità al di Alfred nel vedere la tentatrice Sofia, il fidanzato e Sofia si sono baciati appassionatamente e Anna ha visto tutto all'interno del pinetto. Non solo, è stato proprio il fidanzato a chiedere il falò di confronto per lasciare la fidanzata e uscire con la tentatrice. Anna era sconvolta, ma il pubblico l'ha criticata pesantemente per non aver chiesto prima il falò e aver aspettato così tanto a chiedere il falò. È stato Filippo Bisciglia a correre al villaggio delle fidanzate per avvisare Anna, che ha presa la notizia e scoppiata in lacrime e consolata dal conduttore. Bisciglia, vedendola così, non riesce a trattenersi e la abbraccia a lungo. L'abbraccio di Filippo nei confronti di Anna poverina mi fa troppa tenerezza, si legge sui social. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.